A Montorio Albomano si è svolto il confronto dedicato al tema del rilancio delle aree interne organizzato dalla Caritas di Terramoatri dal titolo Riabitare il futuro. Un'occasione di confronto e di elaborazione di nuove strategie di sviluppo, una sfida decisiva per l'entroterra del Terramano, territorio ricco di potenzialità e di talenti nascosti da valorizzare. Io sono convinto che unendo insieme la presenza in questo convegno di tutte le realtà operanti sul territorio possa essere veramente una grande occasione per progetti concreti, ma soprattutto finalizzato a riscoprire il senso di appartenenza. Lo faremo anche con i studenti fuori sede, l'anno scorso abbiamo lanciato l'idea Io non dimentico l'Abruzzo, è dunque un tentativo per aiutare tutti a scoprire che è possibile anche nel nostro territorio costruire il proprio futuro, vivere la propria esistenza in un servizio che non è marginale, ma è sempre più inqualificato e soprattutto prospettico per creare nuove condizioni di sviluppo. Presenta l'evento anche il neocommissario straordinario alla ricostruzione post-sisma 2016, il senatore Guido Castelli, che ha incentrato il suo intervento sull'importanza di trovare il giusto percorso per il rilancio delle aree interne. La ricostruzione ha un senso se assicuriamo nel frattempo che queste aree rimangono vive e vitali perché dobbiamo scongiurare il rischio che le case una volta ricostruite restino drammaticamente vuote. Il terremoto ha impattato una realtà che era già profondamente indebolita da quelle che sono tendenze su cui stiamo cercando di lavorare, non senza però partire dal presupposto che il problema dell'inverno demografico, del calo delle nascite, è un problema nazionale che impatta di più nelle aree interne ma che va prima affrontato a livello nazionale. Da questo punto di vista il Presidente del Consiglio ha le idee molto chiare, proprio in questi giorni si sta elaborando un piano per il rilancio demografico dell'Italia. All'interno di questo piano noi possiamo vincere la nostra battaglia per ridare impulso, vitalità e slancio anche a delle aree che possono essere sostenute con fondi pubblici dedicati che però devono avere come centro il lavoro. Altro argomento è stato quello del sostegno agli anziani che più di tutti vivono le difficoltà legate allo spopolamento. Altro provvedimento, una legge dele che è importante, che è stata varata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, è quella che va nel senso di favorire proprio la domicidalità dell'anziano, sostegno territoriale che in questi posti meravigliosi, non lo dimentichiamo, possono rappresentare una risposta ai problemi dell'anzianità. Gli anziani non devono andare in struttura, gli anziani devono rimanere a casa loro con un sistema pubblico che consente però ai familiari di rendere possibile questa cosa.